Buonasera, eccoci live sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2022 Fatemi sapere a coloro che si stanno collegando se l'audio procede bene e ovviamente anche il video Come vi dicevo, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra seguitissima rubrica web Dialogo con ospite Oggi abbiamo qui come ospite la neodottoressa Doriana Di Marco che ci presenterà il suo interessante libro Quindi buonasera dottoressa Doriana Di Marco che tra l'altro è anche una mia carissima amica Quindi buonasera Doriana e grazie per aver accettato il nostro invito Grazie a voi Buonasera poi ovviamente al nostro prof avvocato Alessio Savarese direttore scientifico del Centro Studi Piero Camandrei Buonasera a tutti E nell'attesa che le persone possono confluire la nostra diretta ovviamente come sempre procedo ecco ad un piccolo cenno sulla nostra realtà Noi siamo al Centro Studi Piero Camandrei un centro di alta formazione che opera appunto nell'alta formazione ormai dal punto di vista proprio nazionale infatti abbiamo ecco questa grande come dire fortuna che poi chiaramente derivata anche dall'impegno costante di avere ormai poi studio un po' ovunque e quindi operiamo anche a livello nazionale soprattutto grazie alla didattica a distanza io però non voglio scendere in dettagli nella descrizione di quella che appunto è la nostra realtà in particolare di quella che è la nostra offerta formativa perché poi come sempre procederà direttamente l'avvocato Savarese come ogni volta o meglio come di solito ultimamente stiamo procedendo daremo poi al termine di questo webinar anche del materiale didattico gratuito in questo caso Doriana ha scelto di omaggiarci della prefazione del suo libro quindi daremo appunto come materiale gratuito la prefazione che vi sto mostrando e quindi insomma ragazzi come sempre vi ripeto perché spesso mi capita anche oggi mi è capitato di essere stata contattata per email e anche tramite messaggi mi chiedono ma come si fa ad ottenere il materiale gratuito allora basta semplicemente inviare un messaggio privato alla pagina Facebook corsi di formazione giuridica 2022 scrivere il proprio indirizzo email e scrivere di aver partecipato di aver preso parte al webinar e quindi di voler di conseguenza ricevere il materiale gratuito per quel webinar quindi segnate anche il titolo del webinar che avete seguito buonasera Giovanna leggo il primo commento chiaramente poi ricordo sempre che questi webinar saranno riproposti più volte e quindi avrete sempre la possibilità di rivedere in differita tutti i nostri webinar, le nostre dirette, in tutti i nostri canali social che ricordo ovviamente l'attuale pagina Facebook corso di formazione giuridica 2022 da cui stiamo trasmettendo il canale YouTube Centro Studi Piero Calamandrei e il contatto Instagram Centro Studi Piero Calamandrei non voglio dilungarmi ultimamente anche perché insomma è davvero interessante il libro che ha scritto la nostra Doriana e quindi a breve procederemo proprio ad entrare nel dio del nostro dialogo e ti chiedo di aspettare ancora un attimino Doriana in modo tale che passiamo la parola all'avvocato Savarese per l'immancabile introduzione a questo webinar Grazie Giussi, buonasera a tutti, buonasera Doriana io sono praticamente senza voce reduce dalla terza dose del vaccino e quindi un po' febbricizzante ma nonostante questo non potevo mancare a questa bellissima presentazione di un libro che è frutto di una studentessa che conosco bene che tra l'altro mi ricorda un po' sia a tante studentesse della nostra scuola e un po' anche il ricordo dolce di mia mamma che nel mentre che era nella dolce attesa di me persona e ovviamente mi auguro che sia stata una cosa bella per lei così dice, poi vedremo nei dettagli faremo qualche analisi anche Doriana in dolce attesa aspetta una bellissima femminuccia e un po' ricorda ecco questo spirito grintoso di tante studentesse mamme della nostra scuola perché veramente sono tantissime che fanno dei grandi sacrifici per poter studiare per poter portare avanti le loro ambizioni le loro passioni e i loro obiettivi di studio ecco io sono voglio dire maschietto mettiamola così e quindi non posso capire cosa vuol dire avere nel grembo una ecco una bambina o un bambino e soprattutto non posso capire cosa vorrà dire un indomani saper crescere un bambino o una bambina ma so che le studentesse mamme dalle esperienze che ricevo quotidianamente fanno tanti sacrifici e dirò di più ci sono addirittura delle mamme che in questi anni con la scuola hanno studiato proprio con i bambini piccoli anche parlo un po' più grandicelli di 3, 4, 5 anni dove quando venivano poi ai nostri corsi dicevano ma sai mio figlio piccolo ha detto che quella domanda andava risposta così quel argomento andava affrontato così allora anche i bambini insieme alle mamme andavano a prepararsi per quelli che sono i concorsi quindi io sono molto emozionato sono felice di essere presente anche un po' malanduccio mettiamola così fisicamente però ci tenevo e soprattutto poi voglio un attimo anche sottolineare l'importanza anche per la scuola di avere studenti così propositivi così ambiziosi la redazione di un libro è qualcosa che non va mai trascurata non passa non deve passare inosservato perché sono dell'idea che sia leggere un libro ti arricchisce non oso immaginare poi scriverlo io per esempio da anni a questa parte questo è un consiglio che do a tanti ragazzi e tanti studenti che ci seguono io da anni ogni giorno leggo un capitolo di un libro al giorno di diverso stampo di diverse tematiche perché la lettura mi innanzitutto arricchisce personalmente perché grazie alla lettura di un libro riesco a tenere informazioni che non ho mai ottenuto oltre a questo la lettura mi isola mentalmente mi fa rilassare mi fa aprire la mente e mi consente ovviamente di migliorarmi sotto tutti i punti di vista faccio una piccola prefazione in generale su quelli che sono i nostri corsi prima di passare la parola alla dottoressa di Marco l'unica cosa penso che dovresti disattivare il microfono Doriana perché è aperto altrimenti andiamo ok perfetto in concomitanza allora la mia prefazione ma si vuole è stata fatta veniamo ora alla parte organizzativa della scuola ovviamente vi ricordo un po' la nostra offerta formativa i nostri corsi di preparazione innanzitutto partiamo quelli là in forte specializzazione giuridica che sono il corso di preparazione ed esame d'avvocato che ovviamente partirà a settembre ma già stiamo raccogliendo le iscrizioni il corso di preparazione in magistratura che inizierà ad ottobre ma anche qui raccogliamo adesso le iscrizioni il corso di preparazione per la seconda prova orale dell'esame d'avvocato che sta andando fortissimo devo dire la verità sono in tanti gli studenti che si stanno preparando con noi e infine il corso di preparazione esame d'avvocato in ambito europeo e questa diciamo è la nostra categoria VIP potremmo dire dei nostri corsi cioè quelli dove c'è la più alta preparazione e formazione giudica poi c'è naturalmente un pacchetto di corsi relativo all'ambito dei concorsi pubblici come tutti quei corsi che procedono a effettuare la preparazione sotto questo campo per ogni tipo di concorso pubblico i corsi di preparazione negli ambiti delle certificazioni che quindi rilasciano certificazioni sia linguistiche che informatiche poi non dimentichiamo che siamo un po' lo studio e campus e quindi abbiamo anche corsi di facoltà di laurea come giurisprudenza economia ingegneria psicologia ma anche tutti i master di secondo e primo livello e anche del mondo scuola queste sono un po' le nostre offerte formative che si concludono poi nei corsi di aggiornamento professionale come GDPR privacy come inglese giuridico come anche giurista d'impresa e nell'ambito dei concorsi pubblici se dovessi menzionarvi tutti i concorsi che prepariamo ci vorrebbero tre webinar dico in generale semplicemente che tutti i concorsi ma tutti i concorsi pubblici vengono preparati dal centro studio di Calamandre ora io passo la parola a Giussi saluto tutti gli studenti collegati e come sempre vedo tantissimi e voglio ascoltare con attenzione quello che ha da dire Doriano Doriano su questo bellissimo libro grazie grazie al prof Savarese per questa bellissima prefazione introduzione devo dire che questa volta è stata ancora più bella del solito per il discorso iniziale molto sentito e profondo ovviamente io mi accudo a quanto ha riferito l'avvocato Savarese tra l'altro già ecco ho aperto questo incontro online annunciando appunto che Doriana è proprio una mia amica quindi so quanto possa essere importante per lei questo momento e apprezzo soprattutto poi il suo impegno nonostante la giovanità e nonostante i mille impegni che lei ha tra l'altro ricordo è anche neolaureata di dedicarsi alla scrittura di un libro il che non è da tutti e non è per niente facile quindi apro con molto piacere questo nostro dialogo ponendoti già la prima domanda Doriana ma in effetti come è nata la passione questa tua passione per la scrittura cioè come è nata questa tua idea di dire basta ora mi metto e scrivo un libro allora intanto saluto tutti sia l'avvocato Savarese e ringrazio per le bellissime parole e Giussi che era mia grandissima amica e come è nata la mia passione la mia passione non penso sia nata in un momento specifico nel senso io credo che la passione per la scrittura sia nata dalla passione per l'ascolto perché io sin da piccola ho tanto ascoltato mia madre che mi raccontava le favole mi leggeva le favole ma non le semplici favole per bambini diciamo la mia passione era proprio il poema omerico i poemi classici li adoravo e lei li leggeva quando ero proprio bambina poi vabbè con le classiche storie per le classiche favolette mi hanno appassionato poi dall'ascolto sono passata alla lettura delle favole delle storie ma la scrittura l'ho sempre nascosta diciamo sia per mancanza di tempo sia per non so scrivevo ma non pubblicavo scrivevo e non facevo vedere diciamo un po' per timidezza un po' perché diciamo che quando uno scrive scrive tanto di personale tanto di quello che ci accade intorno tanto di nostro quindi far vedere quello qualsiasi genere intendo però far vedere quello che uno scrive comunque è un qualcosa di di intimo penso non tanto di non è facile e quindi la mia passione diciamo non c'è stato un momento un inizio penso però che sia nata dall'ascolto dalla bellezza dell'ascoltare soprattutto mia madre ecco e infatti so benissimo che una delle tue doti è proprio l'ascolto non a caso e l'ascolto ti ha condotto alla passione per la scrittura e quindi per dare sfogo un po' a quello che poi è il tuo mondo interiore perché poi questo significa mettersi a scrivere fondamentalmente ma Doriana nello specifico poi come è nato il racconto del tuo libro che ricordiamo è intitolato Claire Mark 1891 il racconto è nato un po' allora io ho iniziato a scrivere ho iniziato a scrivere sempre di nascosto ovviamente e ho buttato giù delle tanti tanti racconti tante ho buttato giù tante idee poi quando le ho messe insieme ho visto che comunque erano tantissime idee che avevano senso che mi piacevano quindi ho deciso di farlo leggere a quel punto a mia madre ho detto chissà magari un parere esterno può può aiutarmi a valutare il lavoro perché a me piaceva in quel momento però volevo qualche consiglio e lei subito mi ha consigliato di contattare una casa editrice ovviamente sono stata spinta perché non è stata una mia idea assolutamente la casa editrice è stata poi molto entusiasta di lavorare con me mi ha fatto subito i complimenti soprattutto per per la delicatezza del tema soprattutto perché alla portata di tutti sia dai bambini sia dai più grandi quindi diciamo che mi ha mi ha elogiato e mi ha mi ha dato la forza di veramente di poter andare avanti e di continuare a pubblicare a procedere per la pubblicazione quindi possiamo dire che tua mamma è stata un po' la tua musa ispiratrice assolutamente sì mi ha aiutata assolutamente sì mi ha aiutata mi ha sostenuta mi ha mi ha incoraggiata soprattutto perché a volte ci vuole coraggio nelle in queste cose ci vuole tantissimo coraggio perché ripeto quando uno scrive scrive tanto di personale tanto molto assolutamente pienamente d'accordo ma Doriana ecco nello specifico a parte tua mamma che è stata la tua musa ispiratrice per la stesura di questo tuo racconto di questo libro racconto che poi è diventato appunto un libro ma nello specifico a cosa ti ispiri quando scrivi quando hai scritto questo racconto alla quotidianità semplicemente alla quotidianità ai giorni il giorno sì e il giorno no al giorno bello e il giorno brutto alle persone che mi circondano alle persone a cui voglio bene alle notizie che girano in televisione soprattutto c'è quello che è il mio stato d'animo in quel momento è quello che ti fa scrivere infatti nel libro c'è molto dei miei stati d'animo c'è molto delle mie emozioni dei miei sentimenti c'è molto di quello che penso in merito a determinati argomenti e quindi è questo che ha fatto diciamo ha rilegato il libro il mio essere ecco anche se è un racconto fantasy cioè però la descrizione del personaggio fa tanto di di me benissimo vediamo adesso all'ultima domanda di questa nostra piacevole chiacchierata ecco vogliamo dare un piccolo assaggio Doriana non dico uno spoiler totale del lib però siamo curiosi vogliamo sapere fondamentalmente noi che cosa ci dobbiamo aspettare da questo libro da questo racconto diamo ecco un piccolo piccolo assaggio allora come ho detto è un fantasy alla portata di tutti sia dai più piccoli che ai più grandi è un fantasy ricco di emozioni contrastanti contrastanti perché diciamo che la protagonista è come se non si desse mai pace non è mai contenta fino a quando riesce a raggiungere l'obiettivo e l'emozione soprattutto è quella dell'amore ma familiare non solo l'amore per l'amore in sé l'amore soprattutto per la famiglia per la propria per la propria casa e un tema che voglio sottolineare è importante per me sono due temi importanti all'interno di questo racconto il primo è la guerra perché comunque il racconto si svolge in un'epoca che noi abbiamo studiato tra i libri tra i banchi scolastici quindi è la prima guerra mondiale diciamo come percorso storico e un altro è un altro tema fondamentale è l'ambiente l'ambiente è la cura e la conservazione dell'ambiente quindi questi sono i due temi che risaltano in questo in questo racconto e lo evidenzio e lo sottolineo perché sono quelli a cui tengo particolarmente quindi la protagonista cerca di risolvere diciamo così questo questo problema che tuttora abbiamo se accendiamo i notiziari comunque il tema della guerra e il tema dell'ambiente è un tema che ascoltiamo e vediamo in continuazione quindi questo è anche quello che la protagonista cerca ovviamente con la fantasia con la mia fantasia di di risolvere di trovare una soluzione diciamo pacifica una soluzione bella per tutti una soluzione una bella soluzione ecco non spoileriamo ultimo non spoileriamo abbiamo già dato diversi temi abbiamo anzi lanciato diversi temi quindi devo assolutamente dirti che è un che è un racconto molto all'avanguardia chiaramente i due temi i due big temi della guerra che purtroppo è attuale e poi dell'ambiente che è altrettanto ancora più attuale soprattutto in questo in questo periodo storico il tema dell'ambiente insomma tutte le sue problematiche quindi è un fantasy che racchiude questi due temi che comunque sono molto attuali e anche importanti e fondamentali quindi Doriana io ti faccio i miei più grandi complimenti oltre che un grandissimo in bocca al lupo sono convinta che andrà benissimo perché insomma già da quello che ci hai detto si può bene intuire poi conoscendoti a maggior ragione posso affermare quanto vi ho appena detto ringrazio tutti coloro che vedo che hanno scritto arrivano anche complimenti per Doriana da parte di Moni saluti e a questo punto io ripasso nuovamente la parola all'avvocato Savarese per la conclusione di questo bellissimo e interessantissimo webinar che dire Doriana ci sorprendi ci sorprendi perché non è non è da tutti scrivere un libro ma soprattutto non è da tutti mettere se stessi soprattutto nella scrittura e soprattutto essere capiti mediante la scrittura di un testo perché non è facile arrivare alle persone soprattutto nella vita normale non oso immaginare scrivendo un libro quindi io devo dirti la verità sono rimasto molto colpito da da tanti interventi che hai fatto proprio in relazione a questo testo e soprattutto noi lo diciamo sempre ai corsi questa è una cosa che serve a tutti gli studenti cioè la lettura e la scrittura che sia giuridica o non giuridica è importante importante perché vi consente di migliorarvi umanamente e professionalmente anche quando scrivi un atto anche quando scrivi un tema giuridico un parere giuridico anche le stesse domande a risposta aperta nei concorsi pubblici se non hai la struttura e la base da un punto di vista grammaticale di sintassi di esposizione proprio del concetto del pensiero è la prima cosa che si nota quando si viene giudicati e si viene esaminati in questi ambiti professionali e di formazione quindi il mio invito è prendere ovviamente Doriana come esempio ovviamente non è che tutti i studenti del centro di Calavandrei domani si svegliano e vogliono scrivere un libro no però iniziate a dare importanza sia alla lettura che alla scrittura non necessariamente giuridica io per esempio ho detto stesso io che faccio delle letture di testi in generale che a me piacciono che possono motivare stimolare la mia mente affinché io possa leggere un libro questo è ovviamente il discorso quindi ricapitolando i miei complimenti a Doriana Di Marco nostra brillantissima studentessa che ha scritto questo bellissimo libro prendiamo l'esempio di dare valore alla lettura e alla scrittura dei testi proprio come miglioramento della nostra persona sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista umano con questo io ripasso la parola a Giussi vi saluto tutti e ci vediamo nei prossimi appuntamenti dei giorni che verranno grazie ancora al prof Savarese che come sempre si rivela un ottimo mental coach il nostro grande mental coach del centro studi Piero Calamandrei non soltanto degli studenti ma anche del team proprio del Calamandrei quindi grazie davvero grazie ovviamente a Doriana e ancora un grande in bocca al lupo a tutti voi per averci seguito io vi rimando a domani ore o meglio a venerdì ore 19 con la presentazione del corso esame avvocato che si terrà a partire da settembre 2023 quindi mi raccomando ragazzi tutti collegati perché è molto importante e ci sarà tra l'altro anche la risoluzione delle tracce sia di diritto civile che di diritto penale vi rimando poi all'appuntamento aggiornamenti giurisprudenziali previsto per questo giovedì quindi praticamente dopo domani sempre alle ore 21 e alla diretta simulazione e prove con corsi pubblici prevista per sabato ore 17 grazie ancora a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti